La Gamification per la didattica La Gamification è un approccio che sfrutta alcuni elementi tipici del gioco per trasmettere contenuti e supportare l'apprendimento in modo divertente. Questo corso ti svelerà tutti i segreti della Gamification e ti aiuterà a introdurla nel tuo lavoro, progettando le tue lezioni attraverso l'uso di dinamiche, meccaniche e componenti di gioco. Potrai supportare i tuoi ragazzi nell'apprendimento grazie a soluzioni didattiche coinvolgenti ed efficaci. La grafica intuitiva e gli elementi interattivi che troverai nel corso ti aiuteranno a impadronirti delle conoscenze utili per il tuo lavoro. Il corso è strutturato in un percorso formativo di sei livelli, attraverso i quali esplorerai il mondo della Gamification per la didattica. Troverai slide con spiegazioni, classificazioni ed esempi pratici, PDF video con cui approfondire gli argomenti più interessanti, video lezioni per comprendere meglio l'origine e il contesto in cui si è sviluppata la Gamification, esercitazioni che ti consentiranno di verificare i concetti appena appresi e carte feedback con le soluzioni, utili per il ripasso. Infine, il corso prevede un project work finale. Buon lavoro e soprattutto buon divertimento! Buon divertimento!